I cambiamenti climatici sono la sfida più grande che l'uomo dovrà affrontare per la salvaguardia dell'ambiente e la sopravvivenza delle specie, inclusa la nostra. Il riscaldamento globale in atto potrà essere ridotto solo agendo ora, tutti. La drastica riduzione delle emissioni di CO2 è la condizione per lasciare ai nostri figli un pianeta così verde come lo abbiamo conosciuto. La produzione di CO2 da fonti fossili è altissima, da fonti rinnovabili è zero. L'energia del Sole è l'unica risorsa che arriva da fuori del nostro pianeta. Non ci hai mai pensato? È irradiata ogni giorno, è per tutti ed è economica. La tecnologia più affidabile per catturarla ed accumularla è stata testata nei migliori laboratori italiani ed è ora accessibile a chiunque. Ecco l'installazione fatta in fase di prototipazione rapida presso uno dei migliori laboratori italiani. Zero CO2 La scelta per la tua energia per risparmiare, per il futuro, per l'ambiente, dal Sole per la Terra.